Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. Cominciamo con il calcio di Lega Pro. Il Campobasso sta preparando la trasferta di Borgo a Bugiano. Potrebbe definirsi a breve il tesseramento di Divicino. È un momento particolare per la storia del Campobasso in questo campionato. La squadra ha totalizzato 7 punti, poi gliene sono stati tolti 2 per il ritardo in cui era stata presentata la fideossione il 30 giugno. Quindi attualmente la squadra affidata a Vullo una settimana fa può contare su 5 punti in classifica che purtroppo significano l'ultimo posto in graduatoria. Quindi un Campobasso che deve cercare di far punti, almeno per arrivare al giro di boa della fine del girone d'andata, con un bottino di punti più consistente. Così come diceva Vullo anche la scorsa settimana, appena arrivato a Campobasso, non bisogna perdere la scia delle squadre che precedono la compagine rosso-blu. Proprio per evitare di creare un buco che poi potrebbe essere difficilmente colmato. Per farlo la squadra deve sicuramente lottare con il massimo impegno nel tentativo di ottenere dei risultati favorevoli. Domenica scorsa, lo abbiamo sottolineato più volte, il Campobasso ha dimostrato di avere un'anima. Purtroppo non è servito ad evitare una sconfitta in casa contro il Martina, ma la squadra di Vullo avrebbe decisamente meritato almeno la divisione della posta in palio. Per il modo in cui è stato in campo, soprattutto per il modo in cui si era anche procurato delle azioni che potevano portare al gol. Ricordiamo tra tutte un solo di Di Bartolomeo che poi si è fatto beffare dai difensori pugliesi. E anche un paio di conclusioni di Morante che probabilmente potevano essere un attimo più precise. Comunque il campionato va avanti, domenica è in programma la trasferta di Borgo a Bugiano, una squadra che appare decisamente alla portata del Campobasso. Ma non bisogna sbagliare, bisogna cercare comunque di tornare a far punti, di tornare da questa trasferta con un risultato favorevole, così come invitava anche a fare il portiere del Campobasso, Rino Iuliano, da noi intervistato nei giorni scorsi. Per quel che riguarda un eventuale potenziamento, si potrebbe risolvere veramente a breve il discorso di Giorgio Di Vicino, che si sta allenando con il Campobasso da un po' di giorni. Il giocatore appare in una condizione abbastanza accettabile, diciamo che in questo momento avrebbe 40-50 minuti nelle gambe. E quindi il direttore sportivo Ciccone potrebbe anche fargli firmare il contratto in vista della prossima partita di campionato. Più complicata è la situazione fisica di Pignalosa, che è apparso in ritardo di condizione in questi due giorni in cui si è allenato con la squadra. Quindi Pignalosa potrebbe venire buono soltanto da un po' di tempo e bisognerà rifletterci a lungo, perché probabilmente il Campobasso avrebbe bisogno di un potenziamento in maniera immediata. Non si può permettere di aspettare uno o più mesi. Per quel che riguarda ancora i fuori quota, c'è stato un contatto da parte del direttore Ciccone con due giocatori che appartengono alla Primavera del Siena, ma per il momento non è possibile conoscere i nomi. È stato soltanto un pur parler che, se sarà possibile, potrà essere risolto soltanto nei prossimi giorni. Infine, dobbiamo fare veramente gli auguri a Forgione, gli auguri di in bocca al lupo, perché è stato operato questa mattina al legamento crociato anteriore, che non era nemmeno completamente rotto, però si è preferito comunque fare la ricostruzione. Cosimo Forgione, da questa mattina, dovrà aspettare i canonici cinque mesi per poter tornare in campo. A lui veramente un in bocca al lupo. Domani la sala ricevimenti del Coriolis ospiterà la festa del calcio molisano. Nel corso dell'appuntamento organizzato dalla FIGC Molise verranno premiate le società vincenti i campionati e la Coppa Disciplina della stagione 2011-2012. Quest'anno parteciperanno all'evento il presidente della Lega Nazionale di Lettanti e vicepresidente vicario della FIGC Carlo Tavecchio, Antonio Matarrese, membro del comitato d'onore della FIGC e dell'UEFA. Calcio di Serie D, la Renato Curiangolana sarà la prossima avversaria dell'Olimpia agnonese. I Granata stanno preparando la trasferta abruzzese nel pomeriggio test amichevole per provare gli undici da mandare in campo. Nell'Isernia tutti a disposizione di mister Farina, che nel pomeriggio proverà la squadra da schierare domenica all'Ancellotta contro l'Ancona in un test questo pomeriggio contro la formazione Uniones Bianco Celeste. Per la gara in casa del Fidene, il Termoli non potrà contare nessun D'Angelo, nessun Falco, bloccati entrambi per una giornata dal giudice sportivo del momento della squadra. Abbiamo parlato con Andrea Di Siena. È un momento molto positivo per noi, per la squadra, per la città, per i tifosi, per tutti. Infatti abbiamo incontrato, io e l'unica squadra che mi ha impressionato fino ad oggi, è stata proprio la San Benettese. Però ho sempre detto, anche il Termoli è un'ottima squadra, ben guidata. Non dimentichiamo che sono cinque partite di seguito che vinciamo. Prima dei cinque ne abbiamo paraggiato uno con la Maceratese, quindi vuol dire che il Termoli c'è. Questa qui è la squadra che temevamo di più, temevamo molto, perché sapevamo del valore di questa squadra. E questo chiaramente va a merito dei giallorossi. Un Termoli che adesso incomincia a far paura dopo cinque vittorie consecutivi, un Termoli che sta in alto in classifica, la strada dovrebbe essere un po' in discesa. Ma nel calcio non si può mai dire, con sicurezza abbiamo battuto a San Benettese, adesso vinciamo sicuramente con l'altro perché magari c'è meno punti di noi. Questo qui è un campionato che ci ha insegnato, come tutti i campionati d'altronde, come il calcio, che bisogna stare attenti, non sottvalutare mai nessuno, essere concentrati. Infatti adesso parlavo col mister, noi già pensiamo alla trasferta di domenica, però gli ho detto, ah, diamoci una mezzogiornata di relax, e quindi perché non bisogna mai mollare l'intensità, mai abbandonare la concentrazione. Sinceramente oggi ho avuto un momento di emozione in tribuna, perché c'era un signore di Termoli che ha giocato col Termoli nel 60-62, che vive a Milano, è venuto a vedere questa partita, si è emozionato a vedere, soprattutto, al di là di quella che è la squadra, la grande partecipazione dei tifosi, la grande partecipazione dei Termolesi. Peccato, poteva essere una giornata con qualche tifosi in più, però noi rispettiamo le regole e va bene così. Adesso è ufficiale, il giudice sportivo ha stabilito che la partita tra città di Marino e Civitanovese dovrà essere ripetuta per un errore tecnico. L'arbitro ha riconosciuto l'errore tecnico nel quale, in corso al 24esimo minuto del secondo tempo, Filopati era stato ammonito per la seconda volta, ed anziché estrarre il cartellino rosso, il direttore di gara ha permesso la sua sostituzione. La gara del recupero deve essere ancora stabilita. Podismo Serena Palladino del gruppo sportivo Virtus è sempre pronta a scendere in gara durante la Sue Giù. Noi l'abbiamo intervistata. Serena Palladino è andata in archivio anche questa 39esima edizione della Sue Giù. La partenza molto suggestiva con gli atleti in carrozzina che hanno aperto questa gara. Sì, avevamo pensato di dargli un ruolo protagonista, nel senso che ci sarebbe piaciuto regalargli un attimo per vivere la gara, perché solitamente loro partecipano, sono sempre molto numerosi, però quest'anno hanno avuto modo di vivere la gara dal dentro, quindi gli abbiamo dato dei palloncini con i nostri atleti e abbiamo voluto unire le due cose, quindi il tema della Sue Giù e poi chiaramente la Virtus con i nostri bambini che avevano i nostri colori, i palloncini. È stata una partenza sicuramente bella. Io in realtà ho corso, quindi l'ho vissuta da dentro. Ero circondata da persone, è stata, per me è stata bellissima. Spero che anche per chi non ha partecipato ma ha assistito alla gara, l'emozione sia stata allo stesso molto forte. Più di 6.000 gli iscritti a questa gara, tanti che sono giunti anche da fuori città, una soddisfazione per voi? Io non so di preciso il numero degli iscritti, so che i partecipanti sono tantissimi. Lo possiamo vedere perché qui in piazza ancora continuano ad arrivare delle persone, perché la partenza è stata un fiume di colori, di voci, di scarpette da ginnastica. Sì, stamattina abbiamo avuto molte iscrizioni da fuori regione che ci raggiungono magari la domenica mattina, quindi diamo la possibilità a tutti di partecipare. Sì, siamo tanti. Questa è proprio la magia della Sue Giù. Basket di Serie C regionale, l'NBC Campobasso apre la classifica insieme a Termoli e Teramo a punteggio pieno. Soddisfatto per questo inizio di stagione, il presidente della formazione del capoluogo. Presidente Franco Mancini, è arrivata una grande vittoria contro Campli, una partita sofferta, alla fine sono due punti che possono pesare tanto anche per il proseguo della stagione. Sì, una grande emozione, è importante per come sono venuti questi due punti. lottanto proprio a punto a punto, anzi inseguendo quasi sempre, contro una grande formazione, la più blasonata del roster e con una straordinaria partecipazione di pubblico. Direi che veramente il pubblico ha trascinato la squadra a questo successo che è di grandissimo valore, oltre che come dire tecnico, anche morale, perché veramente ci dà una spinta straordinaria. cementa ancora di più il rapporto tra società, squadra e pubblico. Ci sono dei nuovi appassionati, i ragazzi del rugby, per dire, c'è questo connubio col CUS che sta producendo dei bellissimi risultati. Ecco, un successo importante che, secondo lei, quanto valore potrebbe avere per il proseguo della stagione? Potrebbe avere un valore decisivo, proprio da svolta, perché era il primo test veramente probante, ci eravamo arrivati con qualche giustificato timore, si è visto che il Cambly meritava questo rispetto, però, niente, ripeto, con grande entusiasmo, con grande umiltà abbiamo saputo ricucire le fila, è stato molto bravo coach Sabatelli, tutti, tutti si sono spesi fino all'ultima energia e, ripeto, non è retorico dire che il pubblico è stato il sesto uomo sul parquet. Ora il campionato chiaramente è lungo, però c'è forse l'aspetto più importante, non è tanto il fatto che la squadra è prima in classifica, ma il fatto che avete fatto innamorare una città, cosa che forse non è accaduta neanche due anni fa con la Serie B. Questo ci onora, ci gratifica, ci responsabilizza. Abbiamo visto, ecco, lanciare il grido lupi, lupi per degli appassionati anche di calcio come noi crea una certa emozione, davvero una certa. Ho visto ragazzi della curva del Rosso Blu e riuscire a conquistare, ecco, nuovi appassionati e far riannamorare gli appassionati storici di Pallacanestro e è il risultato principale che ce l'avamo prefissati. Dopo la squadra di rugby, il Cus Molise ha anche la sua formazione di basket. La squadra dell'Ateneo prenderà parte al campionato di promozione maschile che inizierà questa domenica. Sette le squadre iscritte al torneo. La prima giornata si svolgerà con la formula del Basket Day, concentramento al Pala Unimol. Il programma prevede alle 11.15 Venafro Jurassic Team, alle 15 Fortitudo Esernia Basket Boiano. Il quadro si chiude la sera con cestistica Campobasso Cus Molise che si giocherà a seguire del match di C regionale tra NBC Campobasso e San Vito Ortona. Riposa la Pallacanestro Riccia. Questa settimana la nostra rubrica Il cartellino rosso si sta occupando del campo di Limosano. Va avanti tu che adesso c'ho da fare. Sarai la mia metà ma se non parti diventi un altro bolla mia tre quarti. E va, e va, non puoi sapere piacere che me va. Magari qualche amico ti consola Così tu fai la scarpa e lui te sola Io te ce l'anno sola Io te ce l'anno sola Sola senza te me Sarà trasmessa indifferita sulla seconda rete di Telemolise Canale 12 la gara tra la gara tra dunque Gambatese e Campobasso 1919 a partire dalle 16.30 su Telemolise Sport Canale 112 andrà in onda alle ore 20.30 A proposito del Campobasso 1919 il rosso-blu sabato ospiteranno il Fornelli Ai nostri microfoni l'attaccante Paduano Fabrizio Paduano attaccante del Campobasso 1919 vittoria importante qui su un campo difficile come quello di Gambatesa dove pochi hanno fatto questo risultato vi rilanciate in classifica dopo due vittorie consecutive così importanti? Sì più che altro stiamo dando finalmente continuità ai risultati già lì da Venafro si era vista comunque una squadra che era cambiata un gruppo più forte e siamo venuti qui dimostrando di trovare una squadra più compatta compatta tra i reparti e comunque con 4 gol all'attivo e 0 gol subiti fa morale e ci fa ben sperare per le prossime partite 4-4-2 quello schierato da mister Lozzi con Ciarlariello però un po' più davanti alla difesa e di Claudio libero di svariare dietro te ed Esposito che avete messo veramente a ferro e fuoco questa difesa del Gambatesa Sì abbiamo avuto libertà di muoverci davanti comunque credo che il mister ci ha saputo vedere in questa partita e te l'ho detto il fatto di rimanere corti tra i reparti forse è la cosa che ci è mancata prima adesso è già la seconda partita che giochiamo così Ancora una gara difficile per il Gambatesa che domenica sarà ospite del Boiano e abbiamo parlato con il presidente Siamo con Rosario Conte, presidente del Gambatesa seconda sconvitta consecutiva ma niente di inficiato alla salvezza No, assolutamente il Camobasso 1919 ed Esposito in particolare anche se tutta la squadra ha un'ossatura che sicuramente deve lottare per i piani alti della classifica e crede che piano piano li sta scalando Noi da parte nostra sapevamo che avremmo incontrato le difficoltà soprattutto in questo mese che dovevamo scontrarci con le big del campionato per così dire quindi abbiamo fatto i punti prima proprio per stare tranquilli quindi ci siamo messi in una posizione più tranquilla sicuramente la sconfitta dispiace sempre poi anche perdere 4-0 dispiace però comunque ci sta non è un dramma non ci siamo esaltati prima non ci abbattiamo adesso Un mese terribile per il Gambatesa domenica prossima si fa visita alla capolista Boiano Eh sì, in queste ferme sapevamo le difficoltà che dovevamo affrontare in questo mese dispiace ti ripeto solo perché abbiamo avuto questi due o tre infortuni alla fine anche il capitano è uscito un po' malconcio e non sappiamo appunto qual è l'entità dell'infortunio quindi dispiace solo per questo motivo per il risultato ripeto niente di particolare domenica prossima andremo a Boiano andremo a fare la nostra partita noi giocheremo alla stessa maniera con tutte le squadre poi se verrà qualcosa di positivo saremo contenti altrimenti guarderemo avanti Il comitato regionale Molise Giudo ha organizzato per il 22 novembre a partire dalle 11 presso l'auditorium di Isernia la manifestazione dal titolo La giornata olimpica le brave ragazze vanno in palestra le cattive a Londra ospite d'onore la campionessa Rosalba Forcinite medaglia di bronzo alle ultime olimpiadi l'atleta azzurra incontrerà numerose classi degli istituti scolastici del capoluogo Pentro a chiusura della manifestazione ci sarà anche un'esibizione di giudo campionato di promozione il recupero tra Rocca Sicura e Campo di Pietra è andato agli ospiti grazie alla rete realizzata al 44esimo da Giovanni Cannavina in questo modo il Campo di Pietra rimane da solo in testa alla classifica a quota 20 il Rocca Sicura rimane terzo ultimo con 11 punti il Toro sabato ospiterà i tripalimosani i rossoneri dopo un avvio stentato hanno iniziato a risalire la classifica ne abbiamo parlato con il portiere Bova Gaetano Bova portiere dell'Ermes Toro un pareggio fuori casa un suo commento a questa partita? è stata una partita molto equilibrata diciamo che il risultato, il pareggio è giusto anche se un'occasione da una parte o dall'altra avrebbe fatto sì che una squadra vincesse al dispetto di un'altra per noi è un punto d'oro ci consente di allungare la striscia positiva e di raggiungere il traguardo della salvezza prossimo turno contro il ripalimosani sarà difficile conquistare i tre punti? diciamo che noi in casa dobbiamo cercare di fare il bottino pieno ogni partita anche se in settimana, ieri mi sembra che il ripa ha battuto 4-1 la Santiliana quindi sarà una partita molto ma molto impegnativa e da non sottovalutare come vede questo campionato di promozione? molto equilibrato bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio buon pomeriggio buon pomeriggio